Siamo qui al Teatro Massimo di Cagliari con Roberto Castello, Carlo Mancoso e Andrea Cosentino. Oggi, 22 ottobre, stasera con Trattato dell'Economia e poi 23, 24 e 25 con Mizzas, che è il Festival Internazionale di Economia e dell'Innovazione di Sardex, necessariamente non potevamo non confrontarci con autori del primo momento e del secondo momento. Stasera cosa va in scena alle 9 col Trattato dell'Economia? Col Trattato d'Economia va in scena un gioco umile da parte di persone che di economia capiscono poco, ma che hanno cercato di raccapezzarsi in questo ultimo paio d'anni, leggendo, vedendo, cercando di informarsi, di orizzontarsi. Sostanzialmente è un gioco che cerca di mettere in evidenza gli infiniti assurdi che ci sono nelle dinamiche, devo dire, più correttamente finanziarie che in quelle economiche. E' anche un modo abbastanza chiaro, forse per discernere quello che sono l'economia e la finanza, due entità che spesso vengono sovrapposte, ma che in realtà non hanno poi così tanti punti in comune. Grazie. Carlo, anche qua. E quindi qual è il rapporto tra una moneta complementare, l'attuale scenario finanziario e economico e perché Mizzas? Ma, vabbè, innanzitutto quello che noi abbiamo fatto è stato proprio riportare l'economia alla realtà delle cose, alla realtà della produzione. Poi, insomma, l'etimo di economia è abbastanza chiaro, no? Quindi le regole della casa è qualcosa di molto concreto e di molto vicino a noi. Spesso le regole della finanza invece ci hanno portato, o la deregolamentazione, meglio, della finanza ci hanno portato veramente lontani da ciò che è l'economia reale. Quello che faremo anche nei tre giorni che seguiranno è quello di ritessere un po' i legami tra gli strumenti e quindi indagheremo la possibilità di creare degli strumenti finanziari che in realtà possano essere veramente collegati con l'economia reale. Ok. Ma quindi, la moneta, il valore della moneta, il valore del denaro e il suo distacco dalla realtà, stasera questo come viene rappresentato al trattato d'economia? Non mai viene rappresentato in modo sgambo, come nelle nostre possibilità di non economisti. Io mi faccio domande anche molto... Tieni presente che Carlo è un filosofo, quindi... E quindi non si può competere in alcun modo. No, non c'entra neanche lui niente teoricamente con l'economia. Vabbè, però, insomma, le mie domande sull'economia sono veramente basiche, partono da cose del tipo come è possibile che se io faccio economia l'economia non decolla. Sono paradossi strani che sono verbali, partono da paradossi verbali. Ho anche questa cosa dei mercati che se c'è fiducia salgono, se non c'è fiducia scendono. Mi chiedo che chi non si sta fidando, basterebbe, insomma, un po' di fiducia andrebbe tutto bene. Sono domande, insomma, a questo livello, evidentemente, fatte per far scaturire magari degli attriti di disorientamento, come sono disorientato io. Perché hai deciso di fare questo spettacolo? Ma la decisione di fare questo spettacolo, dunque, la voglia è antica. C'ho sempre un po' avuto questa ossessione dell'economia, del denaro, dell'economia. Mi è sempre sembrato un qualche cosa di strano e completamente scollegato dalla realtà, una sensazione che ho sempre avuto. Poi, l'anno scorso, ho visto Andrea fare uno spettacolo, in cui, proprio una battuta del testo, diceva, poi un giorno farò uno spettacolo sull'economia. Ho detto, porca caccia miseria, aspetta, ho finito lo spettacolo, sono andato da Andrea e ho detto, senti, ma, cioè, scherzavi o dicevi su serie? No, no, ma, in realtà. E lì è partita la cosa, abbiamo detto, proviamo a vederci, proviamo a imbastire le cose. Abbiamo due modalità, come dire, abbiamo un background completamente differente. Io vengo dalla danza, Andrea è un attore, è abituato a fare spettacoli comici, io come comico non valgo veramente una cicca. E quindi si è trattato di vedere, di armonizzare non solo gli argomenti, ma anche trovare un terreno su quale potessimo collaborare in modo costruttivo. Adesso siamo alla fine del percorso, quindi, come dire, di fronte a tutti i nostri limiti, ai limiti delle nostre... Quindi la differenza tra quello che potevamo immaginare essere l'idea iniziale e quello che poi è la realtà prosaica di fronte alla quale ci troviamo. Ok, ma quindi l'economia può fare anche ridere? L'economia può fare anche ridere, può far piangere, quindi tutto ciò che può far piangere può far ridere. Grandi comici come Totò dicevano che sotto la comicità c'è sempre la tragedia, ora non dico che l'economia sia una roba tragica, però sicuramente può essere una cosa comica. Le persone hanno bisogno di capire la società in cui vivono e in una società di mercato capitalistica, volentieri o nolentis, non capire l'economia significa non capire il mondo in cui si vive.